Scatman's World Quindi siamo secondi in campionato adesso Primo è il Werder Bremen, incredibile Reus, Mkhitaryan e Veneziano contro il Nuremberg Andiamo Prima sconfitta insomma in campionato in Bundesliga Ho perso 1-0 Senza Veneziano il Borussia non sa vincere Vai ragazzi Nuremberg Borussia Dortmund Borussia Dortmund Vai Fioi Come si parte Incredibile il Bremen Il Bremen è il primo posto Veramente una cosa incredibile Attenzione, attenzione Gizknek Vai il Feller subito Mamma mia che inizio pericoloso il Dortmund Bravissimo Veneziano poi però sbaglia Dremch Occhio, occhio Kiyotake In trenare fa quel che vuole Rigore Invece no mamma mia Pogatez Occhio Mamma mia Olè 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 Dai ragazzi Dai come Occhio Oh bravo vai Miki Il Miki Gol del Miki Suo assist di Veneziano 1-0 Dortmund 1-0 Dortmund Grandissimi Che assist del Cume Attenzione Attenzione Felner Chandler Dai ragazzi Dai Occhio Grandissimo Ancora il portiere Mamma mia Che rischio Non stiamo giocando bene come inizio di stagione però eh Pogatez Ancora angolo Pogatez Prova il tiro Murato Kiyotake Bravissimo E regolare 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 Veneziano Ci vola Il Vene Ci vola Il Vene Ci vola 2-0 E il Cume Vene Ci hanno 2-0 Per il Dortmund Azione Ah Ho scelto di far vedere il replay A Pirlotto Subito il Dortmund 0-2 Attenzione il Cume The best Cume In the world Gebhardt Drimic Kiyotake Non c'è niente da fare Il Borussia Non si passa Con la difesa del Dortmund Bravissimi Ancora Veneziano Che si invola Sulla fascia destra Prova il cross Non c'è nessuno Però Aia Aia Gold Nuremberg Accorcia le distanze Accorcia le distanze Nuremberg 2-1 Stiamo tranquilli Adesso Stiamo tranquilli Seconda Frizione Dai ragazzi La dobbiamo vincere Però 2-1 Un po' pericoloso Fallo Ma dove Va beh Attenzione C'è il gol Incredibile 2-2-2-0 Incredibile Ancora lui Ancora il giapponesino Qua Incredibile Incredibile Che dormita Non ho parole Ma la vaffanculo Incredibile Da 2-0 2-2 Questo è il calcio Ragazzi This is football Adesso deve stare calmo Il Borussia Vai Fioi Bravissimo Bravissimo La palla È lunga Non ci credo Il portiere Recupera I tifosi del Dortmund Sono abbastanza Incazzati Però Bellissimo Mettila in mezzo Miki Miki dorme Incredibile 2-0 2-2 Non ci credo Qualcuno deve tirarla Reus Vai Dortmund Vai Occhio Bravissimo Vai Veneziano Il Veneziano Simbola Il Venezianore Il Venezianore Diffico Cosa fa Veneziano Parata Parata Attenzione di testa Prova la maninta Da fare Incredibile Beffa Allorimberg Veneziano Ancora Fuori di poco Bravissima Bravi Dai Rois Veneziano Per il Miki Bravo Miki Vai Rois Vai No Rois No Lewandowski Perché L'attacco A mille punte Per il Dortmund Manca solo Pierre Emerick Manca il piccolo Pierre Il piccolo Emerick Attenzione Il Veneziano Non ce la fa E la pole La recupera La mette in mezzo Corner Il cume di testa Rois Rois Per il Veneziano Ancora di testa Ancora Rois Incredibile Incredibile It's incredible It's incredible Cume It's incredible Cume It's incredible Cume Dai la vincevamo 2 a 0 Porca mignotona Braviscevi Vai Robert Vai Robert Vai Robert E il Veneziano la mette 3 a 2 3 a 2 Dortmund 3 a 2 Dortmund Incredibile It's incredible come 3 a 2 In inglese sempre più puro Che partita ragazzi Bravo Lewandowski Molto altruista No cagatissima Mamma mia che rischio Siamo venuti fin qua Siamo venuti fin qua Per vedere Segnare il Kubenda La 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 Attenzione l'autore della doppietta No No l'ha dormita ancora E c'è Mamma mia It's incredible partit L'inglese e il veneziano E' sempre più puro Royce No scusate Grosskreutz Blachikowski Bravissimo il Borussia Chiudiamola Chiudiamola Beppe E c'è il gol Mkhitaryan 4 a 2 Borussia 4 a 2 Borussia Ragazzi oggi volevo fare due partite Ma questa partita è talmente bella Che devo metterla praticamente tutta Ragazzi Anche perché visto che sarà solo una stagione Se facciamo una partita a video Chi se ne frega Tanto solo una stagione Purtroppo Perché poi ragazzi Partiamo con i mondiali Attenzione La dormita della difesa Che non sta giocando bene oggi Oh il Mickey Show Roy e Grasskreutz Veneziano è proprio una cosa impossibile di testa Mamma mia che giocatore Mamma mia veneziano che giocatore Un giocatore straordinario Con 1000 R Oh La 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 Attenzione Attenzione Venetian Venetian vuole la tripletta Vuole la tripletta E sono tre Cinque a due Mamma che partita PAM Missile terrarea Nulla da fare per il portiere Eh mancavano partite così Che stagione di Veneziano A livello superstar Con un giocatore largamente inferiore A quello del cumendone Diventa omito dell'anno scorso Signori Che cume Madonna Spettacolo puro Vai 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 Molto bene Molto bene Hummels Peace check No forse è peace check quello Bravi Veneziano la da perfettamente a Robert Vai piccolo Robert Vai piccolo Robert Vai che vuole il poker Oh ish è finale No è Veneziano Incredibile Ancora lui Sono quattro Sono quattro Sono quattro Questo è un gol d'antologia Lewandowski E guardate il Veneziano Cosa fa in tuffo Un gol straordinario Quattro gol del kume It's incredible kume Mamma mia Che prestazione Che prestazione Che partita Signori E Veneziano Prova anche un altro assist Un assist Un assist E quattro gol Signori Teser Kume Grande vittoria Per il gioiellino del Dortmund Beh ha preso solo otto Insomma Non male Non male Non male Vediamo il Brema Cosa ha combinato Pareggio del Werder Il Borussia Torna in testa Con lo Stom Madonna che campionato ragazzi Cinque squadre In tre punti Raga Un saluto Comendo E campo a Veneziano Ciao Comenda veneziano Comenda veneziano Lo youtuber italiano Comenda veneziano Comenda veneziano Comenda veneziano Lo youtuber italiano Comendato veneziano 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 Comendato veneziano